Ho visto che le storie horror che sono state pubblicate venerdì in questo video di FKStoria vi sono piaciute. Non so se voi ben se ne accorti, le storie di cui vi ho parlato le trovate in ThePostReddit. E allora, per il vlog di oggi ho detto, perché andiamo a leggere PostDeReddit? Ho fatto una piccola selezione di PostDeReddit e andiamo a vedere il loro disagio. Ma prima di passare alla fase di intrattenimento di questo video, vi ricordo come al solito di essere nuovo di ritorno di iscrivervi al canale e di cliccare la campanellina. E quindi, andiamo al computer. Allora, andiamo col primo. Importazione tabelle da pdf a. Ciao, per lavoro dovrei importare le tabelle da un pdf che mi manda all'agenzia delle entrate in cui ci sono sia dei testi che tabelle e portare in Excel tutte nella stessa pagina. Ho provato un po' di convertitori online e anche quello ufficiale di Adobe e non riesci a importarmi il correttamente in un Excel. E' possibile utilizzare Excel per importare i dati da pdf in automatico? Grazie. Allora, io l'ho fatto in passato, non con un pdf dell'agenzia delle entrate, ma con un pdf. Allora, io cosa ho fatto? Io ho scaricato questo pdf che contiene una tabella. Da Excel vado, come si faceva, data, get data from file, from pdf, seleziono il file e qui mi dà una lista di roba che posso importare. Vabbè, c'è questa tabella, lui dice che me la importa in questa maniera. Load. Boom. Fatto. Andiamo al secondo post di Reddit. Qualcuno mi spiega in parole semplici perché siamo riusciti a sbarcare sulla luna, ma in Windows non è possibile modificare il nome di un file mentre è aperto. Non te lo so spiegare, mi dispiace. Andiamo a un altro post. Modificare file htaccess in Docker. Beh, questa è una domanda molto interessante. Vediamo che cos'è un file htaccess. Il file htaccess è quello che si usa per il web server Apache, che è utilizzato in molti, diciamo, siti internet, e permette di configurare il proprio sito internet con delle cose un po' particolari. Non voglio andare nei dettagli. Quando si compra uno spazio web non si può modificare l'htaccess. Qualora lo si possa fare, cioè caricare il proprio htaccess, si hanno sempre delle opzioni limitate. Comunque, in Docker. Che cos'è Docker? Per chi non lo sapesse, Docker è un sistema di containerizzazione. Che vuol dire? Permette di far partire una sorta di macchina virtuale. All'interno di un sistema operativo non si discosta totalmente da un sistema operativo ospitante. Per esempio, se noi abbiamo Docker su Linux, tutte le immagini Docker che vengono eseguite usano il kernel Linux. Infatti, chi lo sappia, qualcuno magari potrà correggere, con Docker non posso eseguire un sistema operativo diverso da quello che sto utilizzando in quel momento. Quindi, se io ho Docker su Linux, posso far partire delle immagini solamente di sistema operativo Linux. Ho comunque di ambienti che sono indipendenti rispetto al sistema operativo principale, però sfrutta le risorse del sistema operativo principale. Quindi, permette di avere una sorta di sandbox, però molto più veloce di una normale virtual machine. Ciao a tutti, vorrei chiedervi un aiuto riguardo a Docker. È la prima volta che lo uso e lo sto usando con WordPress. Dovrei modificare il file .htaccess che è attualmente nel volume, ma lo vorrei di dare nella mia root, per renderci dove ho il file docker-compost.yml. Scusatemi se non sono molto preciso, con i termini, ma è la prima volta che lo uso e sto cercando di capire. In teoria sarebbe bene creare un file .htaccess al canto al docker-file che poi viene copiato e va a sovrascrivere quello esistente... Sì, effettivamente. Anche se secondo me questa soluzione è migliore. Quando tiri su il container, aggiungi un parametro per mappare il file .htaccess nel container a quello che vuoi tu. Praticamente quello è il fatto che quando si fa partire un container con docker, tutto quello che viene fatto all'interno del container viene perso nel momento in cui si finisce. Cioè praticamente funziona che una delle immagini preconfigurate magari con un programma, con un sottosistema che magari a noi serve configurato e frizzato in una certa maniera, lo esegui, fai quello che devi fare, quando finisce tutto viene perso. Se si vuole conservare il risultato di magari una qualche, che ne so, elaborazione, quel file deve essere salvato al di fuori del container che sta per essere chiuso. Questo lo si può fare facilmente perché essendo che il container di docker è un sistema operativo quasi a tutti gli effetti, si possono montare i volumi che possono essere semplicemente delle cartelle all'interno del nostro sistema operativo, tipo la home, che ne so, qualunque cosa. Questo si può fare al livello di cartella ma anche a livello di file, quindi lui dice monta semplicemente il file .htaccess che tu hai al di fuori del container, quando tu esegui l'immagine. Beh, questa potrebbe essere una soluzione perché si suole modificare il contenuto delle cartelle, quindi dei file. Nell'immagine di docker devi rifare l'immagine e io l'ho rifatto in questi mesi diverse volte, è una rottura di cavolo. Vabbè, andiamo all'altra domanda. Normale che i prezzi della serie 4000 siano ancora così alti. Nvidia Gigabyte RTX 4090 nuove promo, 1999 euro. Vediamo quanto cosa su Amazon. Nvidia Gigabyte RTX 4009, 2489 euro. Quanto c***o volevi comprare in chiacchia pezzente? Vabbè, vabbè, non è che i commenti poi siano meno disaggianti. Purtroppo dalla normalità, con gli anni sarà sempre peggio e bere i tempi in cui il top di gamma costava 600 euro. Vabbè. Il motivo per cui costa così tanto è, tra le altre cose, perché c'è 24 giga di RAM. Vabbè, fai io la spiegare. Andiamo ad un altro posto. Qualcuno riuscirebbe a darmi delle dritte su come rimuovere il virus? Troiano Win32 Malgiant MSR. Sì, il virus è Windows. Formata. Non dormo da 36 ore e non riesco a installare Windows 10 sul mio PC. Per via di vari errori, blue screen of death, aiutatevi vi prego. L'ho letto sto posto, è molto lungo. Faccio riassunto le prontate precedenti. A parte che usa il termine masterizzare per dire che ha messo un'immagine di Windows su una chiavetta USB. Già questa cosa mi turba. Vabbè, lasciamo perdere questa cosa. Ha messo Windows su una chiavetta USB. Non gli partiva, gli dava quest'errore polpette. Poi ha usato un'altra chiavetta USB e gli funzionava. Ha installato Windows, però gli dà blue screen of the death e gli dice questi disagi qua. Ho letto pure i commenti, sono d'accordo con quello che scrivono le persone nei commenti perché i disagi sono sul computer. Qualcuno suggerisce togli e rimetti la RAM, cambia la RAM, cambia SSD. E io forse aggiungerei anche cambia computer. Questo è il genio secondo me. API gratuite C++. Ciao, qualcuno conosce delle API gratuite e possibilmente in C++ e mi sarebbero molto utili, grazie. Sì, io le conosco e sono queste che vedo a schermo. Guardate che bella API che hai. Infatti qualcuno scrive API di che tipo? API di cosa? Cosa vuol dire? Che disagio. Vediamo che troviamo qualche altro posto. Dai, troviamo un altro velocemente. Help, come faccio a riattivare Windows Defender? Sparito non lo trovo più e Windows mi restituisce questo messaggio. Pagina non disponibile. La misura di IT ha limitato l'accesso di alcune app e l'elemento a cui si è tentato di accedere. Perché è così complicato leggere le traduzioni di Windows? Potremmo informazione a contattare il supporto tecnico. Beh, contattare il supporto tecnico. Il virus ti ha bloccato l'accesso agli antivirus. Scommetto che non puoi neanche scaricare altri. Ti consiglio di formattare. Sì, installa Linux. Vabbè, dai, penso che abbiamo terminato. Benissimo Pinguini, io vi ringrazio come al solito. l'avete ascoltato fino a questo punto e spero, e spero che questo posto di reddito vi abbiano strappato un sorriso come l'hanno fatto a me. E quindi, io vi rimando agli altri video che vi porto su questo canale e se vi è piaciuto questo video lasciate un like, lasciatemi un commento. Io poi, quando potrò, non andrò a leggere. E quindi, grazie ancora per l'attenzione e ci vediamo alla prossima. Ciao, Kilo!